Mario, ciao, com'è andata questa serata? Ah, io mi sono divertito anche perché siamo tutti assieme, siamo un gruppo, cerchiamo di queste serate proprio per divertirci e per mettere in pratica le canzoni che di tanti in tanti inseriamo nel programma. Tra l'altro la tua passione per la musica, adesso ce la racconti, ci spieghi da dove nasce e quant'altro. Non è solo questo, sei un insegnante appena saputo di Jiu Jitsu. Sì, esatto, Jiu Jitsu. Diciamo che sono sempre stati paralleli Jiu Jitsu con la musica. La scelta delle canzoni di questa sera, la prima soprattutto, Don Raffaele, mi è piaciuta tantissimo. Sì, è una canzone che piace giustamente, però in questa occasione l'ho scelta perché di voci essendo come tanti raffreddati, non avevo un timbro di voce molto alta, ho preferito una canzone bassa. Hai preferito l'interpretazione? Certo, l'interpretazione. Essendo anche io del sud, la canzone si presta benissimo a questo genere di dialetto. Qui si gioca anche da stuzzi a Puglie e Pucca, quindi bravissimo. Sì, un milanese difficilmente riuscirebbe a farla. Io ti ringrazio tanto per essere stato qui con noi e a presto. Vi ringrazio a voi per l'organizzazione che è impeccabile. È la prima volta che seguo il vostro gruppo, la vostra organizzazione, sicuramente mi aggierò. Grazie. Grazie a te. Grazie.